Ha detto che deve riposare! Da questa parte, capitano! Via agli uomini di perlustrare la zona, non deve essere andato lontano. Se dovesse esserci bisogno di una guardia carceraria, spero che lei non si presenti mai per avere quel posto. Ma dov'è andato? Oh mio Dio, scappate! Bisogna fare qualcosa, dobbiamo aiutare la polizia a scatturare. Agarralo! Andiamo a cercarlo da quella parte. Presto, andiamo da quella parte. C'era il bambino con lui. Ho paura, ho paura! Via ci protegga! È qui! Presto venite, è qui! L'hanno trovato! L'hanno trovato! L'hanno trovato! Lei è in arresto, signor! Deve venire con noi, è accusato di omicidio! Quello è stato un incidente. È lui! Sì, è lui il bambino! Io sono venuto in pace. Mani in alto e cammini verso di me! Ho paura, ho tanta paura! Calma, stai calma! Signor Williams, signor Williams! Pedro, il regalo! Mostra il regalo! Dalla al dottore, lui lo spiegherà alla gente! Distruggetelo! Bruciatelo! Bruciatelo! È l'opera del demonio! Distruggetelo! Quella è l'opera di Satana! Bruciatelo! È maledetto! Bruciatelo! Perché l'avete fatto? Perché? È indemoniato! È Satana in persona! Ammazzatelo! Pedro! Prenderai il ragazzo! Qualcuno lo fermi! Si avvicina al ragazzo! Sì! Dove ti salvare il ragazzo? Uccidetelo! Dove ti salvare il ragazzo? D'accordo, è finita! Potete tornare tutti a casa! Sgomberate la strada! Su, andate tutti a casa! Coraggio, portate via il corpo! Siamo a tutti a casa, non c'è niente da guardare! Via! Che cos'era, dottore? Magia nera! Qualcosa di Satana! Legga! A tutti gli abitanti della terra, veniamo in pace e in amicizia. Vogliamo regarvi un dono. La formula chimica seguente è un vaccino. Un vaccino contro ogni forma di cancro. c'è solo questo e il resto si è bruciato. Non avete ucciso soltanto un uomo. Avete ucciso un sogno. Ma come potevamo fare? Dai, Pedro, vieni a casa con me. Malero, Messico. Ai giorni nostri. Il soggetto, la paura. La cura. Un po' più di fede. Per le dosi regolatevi da soli. Ai confini della realtà.